Associati olivicoltori, ben ritrovati alla 29esima edizione del periodico 22 luglio 2022. Nei nostri oliveti abbiamo raggiunto la fase fenologica dell'indurimento del nocciolo e sebbene le alte temperature e la carenza di acqua stiano raggiungendo delle punte molto elevate, ricordiamoci che comunque questo momento qui l'abbiamo superato anche nel 2003, nel 2015, nel 2017, sembra quasi che si presenti ad ogni quinquennio, perciò è ancora lunga per arrivare alla raccolta delle olive e siamo molto fiduciosi. Ricordiamoci che per andare ad attenuare le attività di evapotrasporazione eccessiva possiamo utilizzare degli imbrattanti, bentoniti, caolini, zeoliti e dobbiamo anche sostenere la pianta dell'olivo, le ripetiamo ogni 15-20 giorni con dei corroboranti alghe oppure distillati di legno da effettuare il trattamento durante le ore serali. Mosca delle olive, anche se le temperature sono molto elevate, sembra che la mosca dell'olivo sia adattata anche questa al caldo estivo, perché abbiamo trovato una maggiore presenza di adulti nelle trappole, ma anche delle ovodeposizioni. Naturalmente queste ovodeposizioni, ancora molto limitate, sono riuscite a sviluppare la larva di prima età, però i calori che ci sono hanno fatto morire questo parassita. Non c'è alcuna necessità di effettuare per la prossima settimana un intervento fitosanitario. Parassiti fungini, anche qui occhio di pavone, piombatura, non abbiamo trovato infezioni particolari date le condizioni climatiche attuali. Invece troviamo, ma l'abbiamo già detto anche la settimana scorsa, la presenza di lebra. Questa settimana il nostro amico e tecnico, dottor Giovanni Alberton, ha trovato anche nuove infezioni nella pediamontana del grappa. Un nostro associato, Roberto Callegaro, dell'olificio Evo del Borgo, ha chiesto un chiarimento e un approfondimento sulla attività trofica, ossia di alimentazione, della cimice asiatica e delle cicale. Ci sono causa o con causa della cascola delle olive? E ora, con l'aiuto della lavagna, andremo ad approfondire questo interessante argomento. Roberto Callegaro, dell'olificio Evo del Borgo, in Arquapetrarca, ha chiesto di approfondire se le cimici asiatiche e le cicale possono essere causa o con causa della cascola delle olive. Dobbiamo subito specificare che gli insetti si dividono a seconda delle loro capacità di alimentazione e lo fanno conforme il loro apparato boccale, che può essere pungente e succhiante, come nel caso delle cicale e delle cimici asiatiche, oppure un apparato boccale masticatore. Nel nostro caso, cimici asiatiche e cicale hanno un apparato boccale pungente e succhiante, dove c'è un lungo rostro che entra all'interno dei tessuti vegetali e ne assorbe i liquidi presenti, perché questi rappresentano una loro attività di alimentazione. Se noi andiamo a pensare che questi due insetti, in questo momento qui, sono ben presenti nei nostri olivetti e andiamo a vedere la loro attività di suzione di liquidi, possiamo distinguerli in due momenti oppure in due fasi. E possono essere un'attività di alimentazione attuata all'interno della piccola oliva, dove il rostro penetra nel mesocarpo, nella polpa dell'oliva stessa e, in questo momento, dove non c'è ancora l'indurimento del nocciolo, questo rostro può percorrere proprio tutto il diametro della mia oliva. Naturalmente, in questa attività di penetrazione, crea una ferita dove la piccola oliva dovrà successivamente attuare un'attività di ricostruzione dei tessuti, ma che può anche non avvenire questa cicatrizazione. E, pertanto, parte di questa oliva ribarrebbe senza un'attività di alimentazione linfatica da parte della pianta e, perciò, andrebbe a necrotizzare. In questo caso, dopo poco tempo, la piccola oliva cadrebbe naturalmente o magari per azione del vento che la scuote o per forti piogge o magari anche per un'attività di leggera grandinata. Un'altra possibilità di suzione e di alimentazione da parte di questi due insetti potrebbe essere attuata nel peduncolo della piccola oliva. In questo caso avremmo una sezione notevolmente minore, avremmo anche dei tessuti vegetali che sarebbero molto più succosi, perciò molto più appetibili da parte delle cicali e da parte delle cimici asiatiche, e il rostro che si introdurrebbe andrebbe a perforare l'intero peduncolo, causando un danno notevole sia ai tessuti ma anche a tutti i vasi linfatici presenti. In questo caso la pianta dell'olivo non sapremo se sarà in grado di limitare il danno andando a creare dei successivi tessuti di cicatrizazione oppure se questa parte andrebbe a necrotizzare lasciando la piccola oliva senza alimenti che in questo caso naturalmente andrebbe a necrotizzare, a diventare secca e dopo per l'attività di questo sole, di questo calore che abbiamo in questa annata andrebbe a cadere. Non sappiamo, dal punto di vista scientifico, se le azioni delle cicali e delle cimici asiatiche siano la causa totale della cascola presente in questo momento qui, oppure se con molta probabilità siano delle vere e proprie con cause alla cascola delle olive. Abbiamo anche riportato nel periodico che il Ministero della Salute ha approvato anche per il 2022 il prodotto fitosanitario Exerebyte a contrasto della mosca dell'olivo. E adesso, nel ringraziarvi sempre per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima.